Ancora un grande appuntamento dell'Associazione Cultura Nazionale, in città arriverà Cristiano Militello, un appuntamento insomma con la simpatia ma anche con la beneficenza. Sì, domani viene Cristiano Militello a presentare un libro striscioni d'Italia, quello che fa lui su strisciola notizia, su quella falsa riga di quella trasmissione, viene per presentare questo bel libro che è un momento di leggerezza ma è un momento molto importante perché è anche un momento di beneficenza, lui porta in dote la fondazione TOG che aiuta i bambini più sfortunati di noi con malattie neurovegetative e per la riabilitazione. Quindi lui viene, presenta questo libro, mi auguro una buona risposta degli aretini perché oltre la simpatia e il personaggio c'è anche per fare del bene, della beneficenza acquistando il suo libro. Quindi domani vi aspetto tutti alle ore 17 all'informazione di Viazza Sant'Agostino per sentire dalla viva voce di Cristiano Militello le sue battute e il suo ultimo libro. I prossimi appuntamenti? Apriamo Marcello Veneziani e tornerà a San Giuliano a presentare i libri nei prossimi due mesi.